Presidente, qual è l'utilità di questa iniziativa, di questo progetto Affitti Rinegoziati, progetto voluto fortemente da ConfCommercio? Sì, è un progetto ideato da Federmoda nazionale che abbiamo declinato sul nostro territorio. La situazione economica della nostra provincia ci pone di fronte ad una triste realtà, con un saldo ancora fortemente negativo tra nuove aperture e cessazioni. Quindi, secondo i dati della Camera di Commercio di Chieti, abbiamo verificato che nel primo trimestre 2017, solo per il comparto commercio, abbiamo avuto circa 122 chiusure. Quindi, abbiamo trovato una soluzione cercando di andare incontro alle esigenze dei proprietari, degli immobili, dei commercianti e anche delle amministrazioni comunali. Se questo trend negativo perdurasse, anche per gli altri trimestri, avremmo per il 2017 la peggiore performance degli ultimi 8-10 anni di crisi. Che ha causato anche un abitamento del mercato immobiliare con un inarrestabile processo di desertificazione commerciale. Quindi, oggi presentiamo il progetto. Da domani, presso le nostre sedi di ConfCommercio provincia di Chieti, ci saranno degli sportelli affitti rinegoziati a disposizione dei commercianti. Chiaramente, abbiamo già avuto molte adesioni da parte delle amministrazioni comunali, che comunque devono dare un segnale di volontà politica e quindi di andare incontro ad una categoria che è in ginocchio.